ciao ben tornati sul mio canale oggi andiamo a realizzare con la pasta modellabile budget la tuttrice di bando ci spostiamo e vi faccio vedere tutti i passaggi per realizzarla andiamo a realizzare la nostra budget ha stato corrente verde nero e il nostro filo di ferro budget al contrario di il flop è molto più snella e anche più alta sempre hanno forma di busso forma di goccia una difficoltà in più che ha in questo caso budget sono le gambe perché mentre il flop ama non si vedono da budget le gambe si vedono e ha una forma più allungata del naso però non è proprio a elefante e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a salire il nostro ferrofilato. Grazie a tutti. Andiamo con un aro. Andiamo a sembrare la bocca. Andiamo. 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 Ad. Andiamo. 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 alle braccia e 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 andiamo a fare le orecchie le orecchie di budget sono un po' più complicate l'effetto a quella di flop perchè abbiamo tre fili attaccati in un'unica ciocca e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo ad attaccarci il terzo. Mettiamo i piedi. Ecco qui la nostra budget. Ben tornati nel mio canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Per solito lasciate un like. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Quindi se ancora la scritta è rossa. Attivate la campanellina della OMA per rimanere sempre aggiornati sulle uscite di tutti i miei video. E se mi volete lasciare un messaggio sotto c'è il mio profilo Instagram. Al prossimo video. Ciao.